Guadiù, come si dice, nel periodo natalizio si va a trovare un po' i parenti e io sono venuto a trovare un mio parente, Guadiù, il grande Pocio eccolo qua, Giancarlo, fatti vedere che poi chi cura le pubbliche relazioni a mio cugino Giancarlo è Maurizio Barbieri Mauri, un bacio, guardate qua, Guadiù che assortimenti che trovate dal Pocio dove siamo, Pocio? Sant'Antimo, Vieruma 28 e Villaricca numero 13 e 15 Guadiù, chi non viene a dopocio, come dice Savio Cavalli te ne ha un buon ragazzo, auguri e buon Natale